bentornati a trame raccontate male allora tra qualche giorno andrò in scala a vedere guglielmo tell ve lo racconterò in una recensione ma intanto portiamoci avanti e vediamo nella trama raccontata ovviamente male svizzera mille qualcosa il paese è soggiogato dagli austriaci che requisiscono tutto il cacao che le svizzeri usano fra il cioccolato per portarlo viene e farci la sacher guglielmo è un albergatore titolare del famoso guglielmo tell ma questa poi la tagliamo un villaggio si sta per celebrare un matrimonio e un coro dei villani evidentemente poco interessato alle questioni politiche canta felice tutto d'intorno parla d'amor con la tipica straripante passionalità elvetica l'unico di malumore è il protagonista dell'opera guglielmo tell che piange per la mancata autonomia della svizzera che già ai tempi di stare nell'unione europea proprio non ne voleva sapere ce l'hanno dentro non arriva a melch tal il saggio del villaggio ma il pedaggio è il pedaggio e il formaggio è il formaggio e se nessuno ci paga il pedaggio nessuno ci vende il formaggio etvige moglie di guglielmo prega melch tal che ufficierà il matrimonio di fare il discorso e lui infatti dice si si esultate si celebrate le gioie pure di mene e amor un oratore nato defilato rispetto ai festeggiamenti c'è il figlio di melch tal tale arnoldo che snobba la festa concentrato a pensare a matilde figlia di gessler il capo dell'invasore austriaci ora come si sono conosciuti il bifolco arnoldo e l'aristocratica matilde lui l'ha salvata da una valanga ed è scattato subito l'amore tra i due arnoldo quindi terribilmente combattuto tra l'amore per la patria e quello per la figlia dell'invasore straniero guglielmo intuisce il dubbio esistenziale di arnoldo e lo sprona a unirsi a lui nella lotta contro gli austriaci gli dice infatti si è spento l'oppressor che dal punto di vista di arnoldo significa naturalmente voler conquistare la figlia dopo averlo ucciso il padre prosegue la festa di matrimonio melch tal benedice gli sposi e alle spose dice chiusa è nel vostro petto la loro posterità beh melch tal tecnicamente per chiuso un po più in basso festeggiamenti sono interrotti dall'arrivo di tale neutoldo che è in fuga e che racconta che un soldato austriaco ha cercato di violare l'onore di sua figlia leutoldo quindi racconta a tutti i presenti cosa è successo sua figlia stava al fiume signor a lavare un gringo la credì e la voleva e ho corso in suo aiuto avevo il coltello quello mi guarda e muore nel cadere avrà battuto la testa io gli ho dato solo qualche coltellata a causa di questo increscioso episodio leutoldo è ricercato guglielmo si offre di aiutarlo a fuggire in barca nonostante le condizioni meteorologiche siano avverse il viaggio potrebbe essere fatale entrambi la moglie edvige infatti gli dice tua morte vai ma guglielmo replica convinto trova guida sicura l'uomo che nel cielo interamente fida ringraziamo lo sommo che ci rende la via della salvazione irsuta di ostacoli detto questi due salpano e riescono a fuggire proprio prima dell'arrivo di rodolfo ma non quel rodolfo o questo rodolfo è una sorta di capo degli sgherri cattivi anche perché sgherri buoni non esistono rodolfo è inviperito perché leutoldo gli è scappato da sotto il naso e pretende di sapere dai villici astanti chi lo ha aiutato a fuggire nonostante le minacce scendete lo spacco tutto l'omertà reine sovrana brodolfo allora arresta melchtal atto secondo arnoldo e matilde si incontrano e pur dichiarandosi amore reciproco si rendono perfettamente conto di quanto la loro relazione sarà problematica matilde allora gli dice riedi al campo della gloria nuovi allori a conquistar potrai sol con la vittoria la mia destra meritar ora io non so se matilde ha realizzato che la vittoria di cui parla prevederebbe l'eliminazione di suo padre mati ammazziamo il vecchio quindi il dubbio esistenziale che ci affligge viene interrotto dall'arrivo di guglielmo e di tal gualtiero i quali ricordano ad arnoldo che matilde è un attimo loro nemica sulle prime arnoldo ribadisce la sua passione per la figlia del di gessler il cattivo dominatore austriaco e cambia idea solo quando gli viene detto che suo padre melchtal è stato arrestato e giustiziato i tre insieme agli insorti di altri cantoni si promettono di combattere e sconfiggere gessler atto terzo arnoldo e matilde si rendono conto che il loro amore è già complicato di suo ma diventa davvero improbabile quando lui apertamente dice perché la sincerità in un rapporto è tutto che per vendicare la morte di suo padre melchtal intende scortare il di lei padre gessler e che a rinunciare alla sua vendetta non ci pensa neanche per il capo ora matilde già nel secondo atto lo ricorderete aveva instigato arnoldo a combattere suo padre ma ora passa al next level fa la spia e quindi non è figlia di maria e svela ad arnoldo dove e quando trovare il padre dopodiché è tutto un tire in molla che ci fa sospettare che matilde sia un po' affetta da bipolarismo prima lui incita poi lo prega di desistere poi gli dice devo trovare il padre poi gli chiede di scappare basta deciditi il cattivo di questa storia ormai l'abbiamo capito è gessler siccome però l'opera è breve dura quasi quattro ore e rossini andava di fretta non l'abbiamo ancora incontrato vi presento quindi il cattivo oppressore gessler come ogni cattivo che si rispetti arriva a film inoltrato gessler celebra i cento anni del dominio austriaco in svizzera che in effetti a ben pensarci se in cento anni non li hanno convinti vuol dire che deve essere stato un dominio gradito guglielmo si rifiuta di rendere omaggio al cappello al cappello al cappello di gessler e per questo il malvagio austriaco lo costringe una prova terribile dovrà colpire una mela posta sulla testa di suo figlio con la balestra e se guglielmo si rifiuterà gessler li farà uccidere entrambi il figlio potrebbe essere legittimamente un figlio preoccupato perché come dice davide van der spross per allemmega per tambell per spiare il guglielmo tel ovvero non è un granché essere il figlio di guglielmo tel e fa bene perché guglielmo è un grande tiratore ma come motivatore vale pochino per dargli coraggio guglielmo gli dice invoca il dio che sol col suo favore al sen potrai tornare del genitore in più gli raccomanda di stare immobile perché spostarsi anche di un non nulla potrebbe costargli la vita o guglielmo ma hai mai pensato di fare il mental coach? no perché sei sprecato a fare il montanaro per fortuna dove non arriva la sua capacità di infondere sicurezza del prossimo arriva la sua perizia balistica e guglielmo colpisce in pieno la mela il figlio complessibilmente sollevato esclama un padre poteva mai spegnere il figlio? ma ti dirò che anche senza scomodare Abramo sì qualche caso ogni tanto si sente guglielmo aveva comunque in mente un piano B ovvero se avessi disgraziatamente colpito suo figlio con un secondo dardo che teneva nascosto avrebbe ucciso immediatamente Gessler che poi immediatamente per caricare il dardo in una balestra ci vuole un anno e disgraziatamente il dardo che aveva nascosto gli cade e Gessler gli abbaia contro che cos'è quel dardo? di Guglielmo che ha le palle invece che dire quale dardo? quale gobba? gli dice fuori dai denti che quel dardo era destinato a lui Gessler la prende bene e ordina che entrambi siano giustiziati padre e figlio Matilde che evidentemente ha un rapporto irrisolto col padre e d'altronde quando lei era piccola lui era severissimo e non le faceva mai guardare l'iPad Matilde dicevo interviene e pretende che il figlio di Guglielmo sia affidato a lei Gessler che fondamentalmente ha il cuore di panna ha consente e condanna a morte solo Guglielmo alla scura del boia direte voi nooo troppo banale lo metterà su una barca che andando alla deriva lo farà sbranare dai rettili dai rettili scusa ma quanti rettili antropofagi ci saranno mai in Svizzera? cos'è Jurassic Park? atto quarto forza che è così finita Arnoldo e un gruppo di rivoltosi si preparano alla rivolta sono rivoltosi nel frattempo Edvige la moglie di Guglielmo dice che vuole supplicare Gessler di liberare Guglielmo ma le bifolche che probabilmente sono state da Guglielmo alle azioni di mental coaching per confortarle in questo progetto le dicono dal Crudel che vuoi sperar morte solo nel frattempo arriva Matilde che ridà Edvige suo figlio Guglielmo nel frattempo è stato messo sulla barca alla deriva confidando che se non verrà sbranato dai temibili rettili antropofagi svizzeri perirà a causa di un uragano in questo posto c'è sempre un tempo di me alla fascia di tutti però Guglielmo se la cava arriva Gessler e Guglielmo lo secca con un dardo così impara non fargli tagliare la testa quando non aveva l'occasione finale la rivolta è completata la Svizzera è libera e Matilde prende sportivamente la morte del padre nulla il poter salvar dalla vendetta se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale attivando la campanella cliccando qua sopra se non lo farete prima metterò una mela sulla vostra testa e poi cercherò di colpirla con una balestra ma per rendere la cosa più interessante mi venderò alla prossima